Se ne parlava già dopo la quinta giornata del campionato, quando ho iniziato io, sparsa la voce che potevo venire ad Avellino. Partiamo dal presupposto che io non ho mai guardato la categoria dove l'Avellino era in Serie D, in Lega Pro era in Serie B. Io sono giocato qua l'anno della Serie B, ho avuto i miei compagni che sono stati qua, che sono andati a caserta, li ho trovati, mi hanno sempre parlato benissimo, sempre mi contavano anegdote quando giocavano qui ad Avellino, la società com'era, un'organizzazione di altre categorie, quindi non vi dico che all'inizio non mi stossicava, perché comunque quando è successa questa notizia mi sentivo con De Vena, siccome c'è un bellissimo rapporto con Alessandro, mi continuavo a dire allora c'è la possibilità che vieni, che non vieni, guarda, a me non mi interessa la categoria, ti ho detto se c'è la possibilità veramente concreta e arrivasse mai un giorno un'offerta, perché non valutarla? Io mi sono trovato molto bene a Caserta, con la tifoseria, con la piazza, mi sono trovato veramente bene, diciamo che gli ultimi anni che ho fatto nella campagna, sia a Benevento, a Caserta, io di questa zona, come ho detto sempre il mio procuratore, mi sono sempre innamorato, perché mi sento come a casa, quindi quando è uscito da Avellino e mi hanno fatto altre offerte, altre proposte, scusate, io la mia risposta al mio procuratore che è amico, gli ho detto guarda, lasciamo stare le altre voci del mercato, io sinceramente c'è l'Avellino, c'è la possibilità veramente di andare da Avellino, comunque ho stato, comunque con la Casertana sono gemellate, sono qua vicini, gli ho detto guarda, Andre, non mi interessa, non mi dire niente, io ci vado veramente volentieri, se è concreta la cosa, io stavo in Argentina, gli ho detto magari, gli ho detto guarda, non parlare più con nessuno, parla solo con l'Avellino, se si può fare la cosa io vengo anche domani, difatti così è stato, sono molto contento, ringrazio il Presidente, il Direttore, quindi sono felice di essere qua. Vabbè, penso che Angelo ha sempre provato un amore profondo per questa città, per la piazza, per tutto, perché ha passato nove anni qua, penso gli anni più belli della sua carriera. Gigi e Idem mi dicevano cose bellissime, mi hanno nominato dei posti, mi hanno detto vai qua, vai là, che qua si sta bene, però mi hanno detto vai in una realtà che Luis, come sei te, andrei subito di corsa, quindi loro mi hanno sempre stossiccato l'idea, anche quando loro sono arrivati lì, perché tutti, ma anche Zito, mi hanno parlato benissimo, e quindi ho detto perché no, quando sono arrivato dall'Argentina la prima cosa che mi ha detto Gigi, ma allora diventi un lupo, io gli ho detto, non lo so, magari, vediamo, baci, lui mi ha detto baci, se puoi vai subito, di fatto è così stato, ho fatto due allenamenti con loro e poi le ho detto al mio procuratore, ho detto guarda, se puoi portarmi, portami subito, perché ho passato cinque mesi, no, benissimo, per tanti motivi, a Caserta, e io ho voglia di giocare, perché mi allenavo sempre, mi sento ancora che ho tanta voglia di fare, di dare, e quindi sono venuto in un gruppo molto importante, dei giocatori forti, che conosco già, con tanti, ci ho giocato, ci ho giocato anche contro, con altri giocatori, quindi quando mi è uscita questa possibilità, ho detto andiamo, poi ho guardato la partita, ho un po' visto quando hanno vinto, che gli altri hanno pareggiato, stavamo a sette punti, associavamo i sei cinque punti, perché non sognare, no, è sempre bello, speriamo di vincere la campionata, speriamo, si sono qui per dare una mano al mister, alla squadra e a tutti quanti, per cercare di vincere. Parlando del problema fisico che ho avuto il 12 di dicembre, con la partita a Siracusa, penso di averlo un po' già smaltito, oggi mi sono allenato normalmente, oggi ho fatto un lavoro fisico, a parte la squadra, perché comunque la squadra, come sapete, domani c'è la partita, la gara, quindi, no, fisicamente adesso penso di stare bene, diciamo, è normale che non faccia una partita da tanto, vorrei farla subito, poi per il fatto dei ruoli, sì, speriamo fare tutti i ruoli, ma farla almeno uno bene, come si deve, no, a parte di scherzo, spero, io ho detto sempre, come ho fatto tutti gli anni, se c'è qualcosa che mi ha sempre costradistinto degli altri, che comunque non ho mai molato, ho sempre messo la voglia, la grinta, che quando mi faccio fare il quinto, il terzo di destra, l'importante è sempre dare il contributo, come ti ho detto prima, vengo in una squadra forte, già forte, con le basi forti, perché ottimi giocatori, calciatori, professionisti, perché ho giocato, lo conosco bene, come si comporta, e quindi vengo qua a dare il mio contributo, poi, vabbè, deciderà il mister dove schiararmi, non è per niente, però quando mi hanno chiamato qui da Avellino per dirmi che venivo a fare la Serie D, con tutto rispetto anche per le altre squadre, io penso che fare la Serie D a Avellino non è, è come, io ho fatto la Lega Pro, fino a cinque mesi fa, ho visto campi, ho visto strutture, ho visto tante cose, che alla fine non è tanto diverso, quindi non è che sto qua a Avellino, fino a oggi sono venuto qua, la prima cosa che ho fatto, non lo nascondo, ho mandato dei video ai miei compagni di squadra per farle vedere, guarda dove sto, l'ho fatto vedere lo spaiatoio, l'ho fatto vedere la palestra, l'ho fatto vedere il campo, perché comunque per confrontarmi, nel senso che ho detto ragazzi, era veramente come mi avevate detto voi, e le ho mandato dei video, non lo nascondo, con confronto alla categoria, nel senso, secondo me il calcio d'oggi è molto moderno, se non corri in Serie A, perdi le partite, se non corri in Serie B, perdi le partite, se non corri in Serie D, perdi le partite, quindi credo che fisicamente devi stare a punto, devi stare sempre, andrei a giocare in campi magari dove ci saranno cento spettatori, cinquanta spettatori, ma mi è capitato pure il Lega Pro, quindi è bello, è bello, perché quando poi giochi per vincere, è ancora molto più bello, quindi sono venuto in realtà, una squadra che sta lottando per qualcosa di importante, l'anno scorso è in Serie B, non ci nascondiamo questo, quindi io spero il primo possibile di riuscire ad andare in una categoria veramente, dove merita questa piazza, ma che non è neanche la Lega Pro, parliamoci chiaro, perciò speriamo di fare, se Dio vuole, questa risalita il più breve possibile, e se no ce la metteremo sempre tutta, io da parte mia e i miei compagni daremo sempre il massimo, è normale, quindi come ti ho detto, devi correre in queste categorie, come hai detto, agonisticamente devi stare sempre a punto, devi correre, chi corre di più e ogni tanto butti la palla dentro e vinci le partite, è normale. Con rispetto alla tifoseria e tutto, io l'avevo già vissuta la nostra Serie B, però pure, ti ho dato pure il nome e il cognome del capo ultrale della Casertana, che quando ho saputo che venivo qua mi ha detto, guarda che là è un'altra storia, mi ha detto, in un altro senso, loro si complimentavano per la tifoseria di Avellino, e pure i miei compagni mi hanno detto, guarda che là è una tifoseria molto speciale, particolare, si vai bene, come in tutte le parti, perché se vai bene è giusto che vieni elogiato, se fai male è giusto che ti urlano e ti insultano, fa parte del mestiere, no? Comunque lo so, lo so, è la tifoseria, perché ho visto, quindi adesso che tutta questa gente qua, veramente sembra che sia arrivato un giocatore, non lo so, quindi penso che non mi era mai capitato, non so, ti puoi mentire tu, manco quando sono arrivato a Terni, che c'era tutta questa stampa qua, i giornali, i microfono, non mi era mai capitato, ma neanche a Grosseto, quindi è una cosa molto bella, perché comunque questo ti fa sentire importante, e se avevi un stimolo di tirare fuori, questo te lo fa tirare ancora più fuori, quindi io, come ti ho detto prima, io darò il massimo, il massimo, il massimo, e vedendo ancora questo, ancora di più. Sì, ho visto la classifica, e nel senso, allora, a prescindere dalla categoria, vincere è sempre difficile, non è detto che tu c'è la squadra più forte e devi vincere, ci avete un esempio più chiaro, noi sono arrivati Angelo, Castaldo, Zito, Bacca, Floro, e ci siamo ritrovati nel posto classificato dove eravamo, sembrava che dovessimo ammazzare il campionato, poi è normale che fai un percorso, trovi degli ostacoli, le squadre altre giocano e corrono, come dicevo prima, se non stai bene, a pari qualità, a pari livello di corsa, esce fuori la qualità, c'è il giocatore forte che ti fa la giocata diversa, però se non esce la qualità, e non stai a pari a pari di corsa, è normale che poi le partite le perdi. Come dicevo prima, ho visto la classifica, poi conosco quasi 9 dei compagni che stanno qua adesso con me, con qualcuno giocato, con qualcuno l'ho avuto d'avversario, e se sono venuto qua è per quello, come ho detto prima, speriamo Dio vuole vincere il campionato, che per me sarebbe una gioia incredibile, però vedendo le altre squadre io credo che comunque ce la possiamo fare, se giochiamo da velino ce la possiamo fare, come hanno fatto queste ultime partite i ragazzi. Vabbè, la gara serve sempre, tanta, quella non si deve mai spegnere, per oggi ci sono due ragazzi argentini qua, anche il capitano nostro, quindi qua penso che questa squadra ha personalità, ha gara da vendere, è normale che a volte passi per un periodo meno buono e altri periodi più belli, quindi adesso che stiamo attraversando questo momento non bisogna mai cadere l'antesità, anche quando sei lassù non devi mai sentirti forte, devi sentirti sempre che devi fare di più, e io credo anche oggi, vedendo di allenare i ragazzi, nessuno che si lamenta, per me questa è una cosa strana, vedere tanti ragazzi che comunque, che ho giocato io, hanno fatto le categorie superiori anche loro, giocatori importanti, che seguono il mister, che nessuno si lamenta, che stanno là, per me veramente era una cosa strana oggi sentirvi lì, io mi allenavo e nessuno che fiatava, anzi, tutti i propositivi, e questa credimi è una bella cosa, perché vuol dire che il gruppo c'è, e che quando c'è il gruppo è normale che i risultati vengono più facilmente. Vabbè, oggi abbiamo fatto uno scambio di parole, mi ha chiesto come stavo, mi ha detto, sei contento che sei qua? Io gli ho detto, la verità, mister, sono qua, sono felicissimo, è normale. Mi ha detto, vabbè, cerchi di stare tranquillo, io gli ho detto, mister, niente, io sono venuto qua a dare il massimo, a dare una mano, di me non avrà mai qualcosa fuori luogo, se c'è un giorno che mi devo sedere in banchina, non mi devo giocare, io non dirò mai niente, anzi, sono qua a completa disposizione. E poi, come ti dicevo prima, questo facendo ancora parlare della categoria, dei caratteristiche, della realtà, non è per niente, però comunque, come ho detto prima, sono un abelino, non è che, corrispetto ad altre squadre, sono andato a giocare a una squadra dove fanno 50 spettatori, non c'hanno le strutture, non c'hanno... E oggi veramente sono arrivato qua, e Alessandro e Sforzini mi hanno fatto vedere un po' la struttura come era, sono rimasto veramente... mi sono sorpreso, perché avere una struttura così, con tutto pronto, i massaggiatori, tutto, veramente ti viene una voglia di fare allenamento, che non ti viene voglia di stare qua, capito, che è una cosa strana, e queste cose qua, magari da tanto tempo che non le provavo, però adesso sono veramente contento, c'è tutto per fare bene. Va bene, davanti, in qualsiasi ruolo mi piacerebbe giocare, ultimamente con la Casa Altana ho fatto l'esterno a destra, anche l'esterno a sinistra, anche la punta, però... In qualsiasi ruolo mi piacerebbe...